Nautica in pillole, che differenza c'è tra l'interno di una barca vela e l'interno di una barca motore? Location diversa ma seguimi. Siamo all'interno di una barca a vela ovviamente, questo è uno Cennis 34 un poco più di 11 metri scarsi di barca, la differenza sostanziale sta proprio nella possibilità di avere più volumi grazie al fatto che tutto quanto questo ponte è assolutamente sfruttabile perché non abbiamo il motore o meglio. In effetti il motore c'è, è centrale ma le potenze di un motore di una barca a vela sono decisamente inferiori, parliamo di un 18, un 30 cavalli, un 20 cavalli a seconda, è un piccolo motore centrale montato proprio di fronte a me, quindi molto più piccolo rispetto a motori che normalmente vengono installati su barche da 34-35 piedi, di conseguenza molto più voluminosi. La differenza soprattutto viene fatta nella parte da metà verso dietro, quindi nella parte poppiera della barca dove appunto normalmente vengono installati i motori per le barche a motore, mentre invece su una barca a vela di queste dimensioni possiamo avere due cabine matrimoniali destra e sinistra comodissime e vivibili. Lo studio dei volumi dell'interno delle barche è decisamente diverso proprio l'approccio perché di fatto su una barca a vela di queste dimensioni ma anche più grandi e più piccole dobbiamo dare molta importanza agli armi della barca, al motore della barca a vela che non è il motore termico, al motore che sono le vele, gli alberi e tutta l'atterizzatura che c'è sul ponte. Di conseguenza tutto quanto viene sviluppato all'esterno è come se avessimo un altro piano su cui andiamo a lavorare per creare e organizzare il motore a vela della barca a vela, mentre invece il piano sotto può essere attrezzato completamente per avere tutte quante le comodità di bordo per poterci vivere. Mentre invece a differenza con una barca a motore la parte interna e la parte esterna è tutta vivibile perché il governo della barca viene fatto dai motori quindi al massimo avrai una console o una postazione di comando ma il resto della barca è completamente libera quindi viene vissuta in ogni angolo con tanti prendisole spazi per entrare uscire posizionare cose e oggetti che ti possono servire per la navigazione a differenza invece di una barca a vela dove l'esterno viene sfruttato per avere gli armi l'albero il boma e tutte le attrezzature di bordo. A differenza la parte più bassa gli interni qua non abbiamo nessun motore sto parlando della barca a vela, di qua abbiamo nella parte bassa dei motori molto importanti che occupano quasi metà barca a livello di proporzione di spazio di conseguenza le differenze sono notevoli. Non ti nascondo che spesso mi chiedono ma se avessero fatto questa cosa avrebbero guadagnato? Ho parlato con tanti ingegneri tanti designer di interni delle barche e ti garantisco che a sentir loro ovviamente è molto ma molto complesso guadagnare o perdere 10 cm su una barca che sono tanti così quindi non sono tantissimi per un designer di interni vuol dire rivoluzionare completamente il progetto perché se io alzo di tanto così ad esempio il pagliolo o il pavimento automaticamente si crea un maggiore spazio in questa zona ma vado a toglierla nella parte superiore quindi è un continuo cercare di bilanciare gli spazi e organizzare al meglio tutti quanti i volumi all'interno. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere sia i test delle barche che la nautica in pillole bene con questa pillola abbiamo detto tutto da Ginesta por Ginesta Spagna Barcellona buon vento e occhio sempre al meteo Barcellona buon vento Barcellona buon vento